Settembre porta alla vendemmia, una festa nei campi, che potrebbe però essere oscurata dalla protervia del caporalato. I Ministeri dell'Agricoltura e del Lavoro hanno finalmente avviato una serie di provvedimenti per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori che mina, tragicamente avvolte con la morte nei campi, l'intera filiera agricola. La prima concreta misura è stata chiesta dal sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova, il sequestro dei pulmini e dei pullman che usano i caporali per trasportare i braccianti nelle campagne. Sì, perché quello è lo strumento che i caporali hanno con il quale ricattano le lavoratrici e spesso anche le aziende, imponendo la manodopera che loro dicono alle loro condizioni. Teresa Bellanova da oltre 40 anni si batte contro i caporali. Nel 1975, da giovane bracciante agricola, denunciò lo sfruttamento nelle campagne del Brindisino. Nel 79, poi, quando era sindacalista della CGL, i caporali entrarono nella sede del sindacato e la minacciarono con le pistole. Il suo impegno personale, quindi, viene dall'esperienza vissuta, anche se da allora il fenomeno non è certamente scomparso. Perché il fenomeno non è un fenomeno della retratezza, è un fenomeno della modernità, perché il caporalato e i caporali hanno avuto la capacità di innovarsi. Fino a quando non ci sarà un tavolo di confronto che mette insieme i produttori, i commercianti, i trasformatori e la grande distribuzione, noi rischiamo di scaricare sull'anello più deboli della catena, che sono le lavoratrici e molto spesso anche i piccoli produttori agricoli. Questa sarà una settimana importante per le decisioni che il governo prenderà. Quali sono quelle più pregnanti in questo momento da prendere? Beh, in questo momento quelle più pregnanti è quello di far partire appunto questa cabina di regia con l'elenco delle aziende che si impegnano effettivamente a non fare ricorso al caporalato. E il secondo punto è quello sul quale stiamo lavorando insieme al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero della Giustizia, che è quella di estendere il reato di riduzione in schiavitù non solo ai caporali, ma anche a quegli imprenditori che fanno ricorso ai caporali. 40 anni fa, quando io ho iniziato a combattere contro il caporalato, avevamo tante ostilità, ma c'era anche un'attenzione di popolo. Oggi questo si è perso. Chiedo a tutti i soggetti in campo di assumere fino in fondo questa come una battaglia di civiltà.